Buongiorno a tutti e a tutti gli spettatori di Medicina Facile. In questa nuova puntata parleremo di radioterapia stereotassica, che è una forma molto precisa di radioterapia, in pratica con una precisione davvero millimetrica, dosi elevate di radiazioni vengono indirizzate verso il volume tumorale. Ma per quali tipi di cancro può essere adottata questa metodica? Con quali vantaggi? Soprattutto con quali risultati? In quali casi? Tutte domande alle quali risponderà il nostro graditissimo ospite. Buongiorno e benvenuto negli studi di Medicina Facile al dottor Carlo Dugo. Buongiorno dottore. Buongiorno e grazie a lei per l'invito, che io considero comunque un'opportunità, in quanto nell'ultimo periodo, negli ultimi periodi soprattutto, è sempre di maggiore interesse l'argomento, gli argomenti che trattano di salute, in particolar modo della fotogenoplastica. Contestualmente quindi anche nei confronti della radioterapia c'è una maggiore attenzione. Quindi credo che sia un'opportunità buona e anche interessante. Noi siamo contenti di averla ospite nei nostri studi e di parlare appunto questa metodica. Vi presento il nostro ospite, il dottor Carlo Dugo, il direttore dell'unità operativa complessa di radioterapia ospedale Mazzini di Teramo. Intanto le chiedo subito, ci scatta una fotografia breve del reparto da lei diretto. Quali sono le caratteristiche della radioterapia di Teramo, dottor? Sì, in pratica il nostro reparto, io lo dico sempre, è un reparto molto giovane, noi siamo ancora minorenni, perché quest'anno noi compieremo i 18 anni, logicamente dall'apertura del centro. Io addirittura sono il più anziano tra i medici e anche per quanto riguarda il comparto sono tutti molto giovani. Contestualmente a questo, grazie a una lungimirante programmazione da parte della direzione sanitaria, sono stati acquistati due macchinari recentemente di altissimo livello e di questo sono orgoglioso e infatti sono molto soddisfatto di quello che noi agiamo a Teramo. Tanto abbiamo visto esterni e interni. Questa è la nostra sala attesa, dopo vedremo anche altri settori. Entreremo proprio nella sala dove vengono effettuate le sedute di radioterapia. Senta, come avviene la preparazione di un paziente che deve sottoporsi ad una seduta di radioterapia? Ma a prescindere della tecnica che dopo viene utilizzata in radioterapia, gli step che prevedono nella preparazione del trattamento sono sempre gli stessi. La prima fase riguarda sempre l'esecuzione di un attacco di centraggio, che è un attacco che si effettua con un macchinario del tutto simile, quindi di quelli diagnostici. A tutti gli effetti è un attacco di agnostica. In alcuni centri, come ad esempio a Teramo, c'è una peculiarità di avere un anello, un gentri un po' più ampio per permettere con maggiore facilità l'introduzione e l'ingresso del paziente sul lettino con il sistema di immobilizzazione che vedremo successivamente che ha un ruolo fondamentale. Quindi la prima fase è costituita dalle effettuazioni di un attacco. Queste immagini del paziente, queste sono immagini che vengono tutte dal nostro centro. Vedete queste immagini, queste scansioni aziali vengono dopo, passano al radioterapista che va ad identificare quelli che sono i volumi di interesse, che sono costruiti quindi non solo dal bersaglio che noi vogliamo colpire, in questo caso specifico vediamo la prostata contornata in verde, ma anche quelli che sono gli organi al rischio. Logicamente in questa fase noi ci facciamo aiutare anche dalle immagini diagnostiche, vediamo a fianco una risonanza che ci aiuta ad identificare questi volumi. Nella diapositiva successiva vediamo dopo il passaggio di queste immagini così contornate al fisico, che insieme al medico va a scegliere quello che è il piano di trattamento ideale, quindi va a pianificare il trattamento. Una cosa importante da dire in questa fase è che noi già prima di effettuare il trattamento sappiamo la dose che riceve il nostro bersaglio, cioè il target utomorale, e anche gli organi al rischio, in modo tale da poter scegliere e ottimizzare quello che è il piano che noi consideriamo ideale. Nella seconda immagine vediamo dei colori diversi che vanno a descrivere dosi diverse. Si passa quindi all'effettuazione del trattamento stesso. Questo è un esempio di piano di trattamento chiamato ADVMAT, quindi con un arco dinamico. Cosa significa? Che è una tecnica abbastanza evoluta, il Gentry eroga la dose nel movimento stesso. Quindi in pratica questa è una tecnica che ci permette di conformare ancora di più la dose intorno al nostro target. In pratica come si svolge una seduta di radioterapia stereotassica, dottor Dulo? Sì, questa è una domanda che è molto frequente da parte dei pazienti. E che i pazienti le faranno sempre. Sì, le faranno sempre, ma che cosa consiste? Quindi sono domande classiche. Innanzitutto dobbiamo dire che la moderna radioterapia è costituita dal IGRT, ossia radioterapia guidata dalle immagini. Ormai tutti gli acceleratori, questo è il nostro acceleratore recente, acquistato nel 2017, che è una bomba. Una bomba positiva. È una bomba, sì, è l'accezione positiva del termine. Ormai tutti gli acceleratori montano un attack all'interno del proprio acceleratore. Nella diapositiva successiva possiamo vedere, c'è anche un video così, mentre parte il video posso spiegarlo. Guardate, questi sono i due collaboratori. Questi sono i due collaboratori, i due bracci meccanici escono dall'acceleratore. Questa è una fase di pretrattamento, quindi vanno a effettuare una vera e propria attack che è simile a quella di centratura. Questa attack dopo viene valutata dal personale, quindi sia medico che del comparto, per valutare una corretta corrispondenza tra le immagini attack effettuate nella fase di pianificazione con quella di trattamento. Vedete, lì abbiamo visto le immagini in cui il lettino, qualora non corrispondessero queste immagini, c'è la possibilità tramite il lettino, come si vede adesso, di poter inseguire la malattia. E quindi di riposizionare il paziente correttamente. Una volta valutata questa corrispondenza il trattamento può essere effettuato. Il trattamento generalmente dura pochi minuti. Pochi minuti. Dose e tipo di radiazione? Sì, il tipo di radiazione dipende sempre dal tipo di trattamento che viene effettuato. Dopo vedremo successivamente in pratica in base al distretto del radiato. Questo è il movimento che fa la macchina, che fa l'acceleratore. E questo è un... Sì, sì, eccola qui, sì. Siamo sempre in una fase di pretrattamento. Quel fascio verde che abbiamo visto sono... Questa è la fase della TAC nel quale noi valutiamo la corretta corrispondenza tra le immagini TAC, dove noi abbiamo pianificato il trattamento, e le immagini pretrattamento. Quindi per valutare la corretta corrispondenza e la corretta posizione del paziente. Sì, perfetto. Stava dicendo dose e tipo di radiazione? Possiamo andare avanti. Sì, c'è anche un'altra diapositiva. Sì, c'è anche un'altra diapositiva che credo che riguardi quello un po' che ho detto, che è sull'IGRT, cioè l'immagine guidata... La radioterapia guidata dalle immagini, oramai noi abbiamo questi sofisticati macchinari che ci permettono di visualizzare già prima del trattamento il target e dove noi andiamo a colpire. Quali sono le peculiarità della radioterapia stereotassica? Sì, è una tecnica, la radioterapia è una tecnica particolarmente evoluta, è una delle più recenti. Ha un grandissimo vantaggio, quello di permetterci di somministrare dosi molto elevate e al contempo risparmiare i tessuti sani circostanti. Possiamo andare avanti. Nella successiva, in pratica... Vediamo per quali tipi di tumore è indicata. Sì, vediamo quali sono le indicazioni al trattamento. Le indicazioni classiche sono quelle che riguardano i tumori del polmone, dell'encefalo, della prostata, del pancreas e anche nei casi in cui noi siamo costretti a re-irradiare per un eventuale recidivo o ripresa di malattia. In casi selezionati può essere applicata anche a metastasi epatiche, linfonodali o metastasi osse. La diapositiva successiva è... E sulle differenze con la radioterapia tradizionale. Perché la stereotassica sì, dottor Giugge... E non la convenzionale. E non la convenzionale. Logicamente noi vediamo soltanto... Che naturalmente fate, fate anche la convenzionale. Certamente sì. Quindi laddove indicata la stereotassi presenta soltanto una sfilza, una serie di vantaggi. Quindi, come ho detto, eroga una dose molto alta sul target. Un altro vantaggio importante è la compliance al paziente, ossia poter ridurre sensibilmente il numero di frazioni, quindi di sedute del trattamento, raggiungere degli alti dosaggi con una rapida caduta di dose intorno al nostro bersaglio, in modo da salvaguardare ancora di più i tessuti sani circostanti. In poche parole, la stereotassi ci permette di innalzare quello che è il nostro indice terapeutico, ossia quello che è l'obiettivo principale del radioterapista, quale sarebbe? Quello di dare le dosi più alte possibili al bersaglio, cercando di minimizzare gli effetti collaterali con una minore dose nei tessuti sani circostanti. Diceva, una seduta dura pochi minuti, no? Sì, questo è di pochi minuti, riusciamo a erogare un dosi altissime con pochi minuti grazie alla potenza degli ultimi macchinari. Mediamente un ciclo di quante sedute è composto? Se parliamo di stereotassi ci sono sedute, anche singole sedute, o una o cinque sedute. Ne basta una, se no ci sono sedute. Vogliamo fare qualche esempio pratico di utilizzo proprio di questa metodica? Abbiamo preparato delle diapositive che ci fanno vedere proprio l'utilizzo della stereotassi. La regia le può mettere in onda e il dottor Dugo ce le può scrivere. Questi sono casi trattati da noi, vediamo nelle due immagini superiori, sono dei casi di stereotassi, guardate, è un piccolo tumore all'apice polmonare, guardate, il colore rossi identifica la dose che noi vogliamo dare al bersaglio, quindi identifica il 100% della dose o lì vicino, in alcuni casi anche superiore al 100% quando noi lo riteniamo opportuno, e gli altri colori identificano dei dosaggi inferiori, quindi guardate quanto cada velocemente la dose intorno al nostro bersaglio. Mentre nelle due immagini inferiori, guardate come la dose viene distribuita in modo meno uniforme e più diffuso rispetto alla tecnica di stereotassi tradizionale. Qui stiamo vedendo un caso di tumore... Sono due casi distinti, nel primo caso era indicato perché il volume era molto piccolo, nel secondo caso il paziente inferiore, nell'immagine del paziente inferiore, logicamente il volume era più ampio, non era possibile applicare questa tecnica, quindi abbiamo utilizzato una tecnica convenzionale e guardate le immagini come si è distribuita in modo diverso. Dimensioni dei tumori bersaglio, dottore, con i quali potete... Sì, sono molto discrezionali, questo dopo dipende anche da altri fattori, che dopo vedremo successivamente caso per caso. Andiamo avanti con le diapositive, vediamo un altro caso, questi sono tumori cerebrali, no? Tumori cerebrali, quindi un tumore piccolo, questo credo che sia di una metastasi, di un paziente metastatico sempre da polmone. Guardate come le dosi vengono somministrate in modo così preciso e in modo da avere una caduta ripida intorno al nostro bersaglio, cosa diversa invece... Con la convenzionale. Con la convenzionale. Andiamo avanti, vediamo ancora un altro caso. Sì, nella successiva credo che sia, questo è il caso di un paziente che aveva un tumore prostatico con una ripresa di malattia a livello linfonodale, stiamo parlando del caso di stereotassi delle due immagini superiori, quindi un piccolo francobollo di dose esclusivamente sulla malattia macroscopicamente visibile, mentre nell'esempio inferiore, quello era un classico caso di un'irradiazione di linfonodi pelvici. Sempre con la convenzionale. Quindi con una dose molto più diffusa. Una seduta in questi casi. In questi casi, nel caso superiore, nel caso di stereotassi, in questo caso, noi abbiamo fatto cinque sedute. Cinque sedute. Analizziamo i vari tipi di tumore, soprattutto quelli che vengono trattati dall'unità operativa diretta dal dottor Duco. Se lei è d'accordo, partiamo dai piccoli tumori polmonari. Intanto, dimensioni. Come si può intervenire? L'abbiamo visto. Quando si può intervenire, dottor? Allora, per quanto riguarda l'indicazione, i tumori polmonari è un'indicazione classica, quindi credo che sia uno dei primi distretti dove è stata applicata la stereotassi. Le indicazioni sono queste, quelle di uno stadio iniziale, se inoperabili, o in caso di rifiuto di chirurgia, o in caso di recidiva dopo chirurgia o radioterapia, e in caso di metastasi polmonare. C'è anche un criterio dimensionale che però è molto discrezionale e può variare da centro a centro. Per quanto riguarda le dosi e le frazioni, sono fortemente condizionate dalla sede, dalle dimensioni di queste neoplasiche. La sede è importante. La sede è molto importante. Per esempio, in caso di un tumore piccolo, che è periferico, perché è importante che sia periferico? Perché è importante che sia lontano da strutture critiche centrali, come il cuore, i vasi, l'esofago. E quindi, in questa situazione, possiamo anche ipotizzare una singola seduta con dosaggio altissimo. Qualora invece il tumore fosse centrale o dimensioni più importanti, quindi a coinvolgere una maggiore quantità di polmone, è preferibile diulire la dose in più frazioni. Vediamo un'altra diapositiva. Sì, questo riguarda sempre... Questa ce la deve proprio spiegare. Sì, questa riguarda sempre l'irradiazione del polmone. È un sistema di mobilizzazione che ci permette non solo di garantire una riproducibilità buona del trattamento, ma anche quella di minimizzare quelle che sono le escursioni respiratorie, in modo tale che il target riesce a stare più fisso possibile. Certo. Nell'immagine successiva, infatti, c'è anche una diapositiva, credo sì che descriva il fatto che, grazie a particolari software, noi riusciamo anche a valutare il movimento del bersaglio durante gli atti respiratori e quindi monitorare con il ciclo respiratorio l'andamento del nodulo durante l'attacca di centratura. Tumore al polmone, una seduta può bastare o mediamente si fanno più sedute? Al momento noi le abbiamo frazionate. Le avete frazionate. Però confidiamo nel tempo di arrivare alla sinistra. Parliamo dei piccoli tumori del cervello, fascio di raggi che appunto curano il cervello. Possiamo dire così, dottor Dugo, operare la lesione senza, diciamo così, dover forare la scatola cranica? Sì, in alcuni casi, tant'è vero che si usa il termine di radiochirurgia. Radiochirurgia, quindi con una singola seduta, con una frazione, con un dosaggio altissimo. Anche in questo caso il discorso è simile per quanto riguarda i tumori polmonari, quindi ci sono delle indicazioni in caso di metastasi cerebrali, di recidive di neoplasie cerebrali dopo chirurgia, di neoplasie cerebrali inoperabili o di lesioni cerebrali benigne. Noi questa settimana, neanche a farlo opposto, stiamo irradiando una dei nomi ipofisari, questo è il primo caso che noi irradiamo. Anche per quanto riguarda le dosi e le frazioni, dipendono fortemente dalla sede, dal numero e dalle dimensioni. Vedete, in caso di una singola lesione piccola, si può anche ipotizzare... Cosa intende per piccola? Così lo facciamo capire anche a nastro. Anche al di sotto del 3 cm. Al di sotto del 3 cm. Sì. E quindi si può utilizzare una singola frazione a un dosaggio altissimo, questo lo abbiamo fatto in alcuni pazienti, mentre in caso di lesioni multiple o di dimensioni superiori ai 3 cm, preferiamo comunque diluire la dose in più frazioni. Andiamo avanti con le diapositive? Andiamo avanti, sì. Questa è una cosa che ho voluto mettere perché la radioterapia stereotassi era un po' demonizzata in passato perché per garantire la riproducibilità spesso si usava un caschetto che era particolarmente invasivo quindi con dei chiodi si andava a fissare all'interno della scatola crani quindi si bucava il tavolato osseo. Non era molto contento il paziente. Il paziente non era molto contento. Attualmente, fortunatamente, ci stanno altri sistemi in mobilizzazione questo è quello che noi abbiamo in dotazione a Teramo che garantisce la stessa efficacia, quindi la stessa riproducibilità del trattamento ed è assolutamente poco invasivo. Lì c'è anche un bite, forse non so se si vede, però c'è anche la possibilità di avere un bite e quindi di avere, tramite il morso dei denti, garantire la riproducibilità del trattamento. Anche per piccoli tumori cerebrali può essere una sola seduta o un cc? Sì, sì. Nel caso di singola seduta proprio si parla di radiochirurgia. Radiochirurgia. E anche lì dura un paio di minuti, due o tre minuti. Grazie alla potenza della macchina. Certo. Piccoli tumori prostatici, come intervenite? Sì. Questo è in pratica il... Noi siamo partiti con la serotassi proprio nei tumori prostatici. Il limite, uno dei limiti per erogare dosi molto alte sulla prostata è proprio determinato dalla vicinanza della prostata con il retto. E quindi noi da circa un anno, che grazie anche all'ausilio dei nostri urologi, immettiamo uno spaziatone, uno spacer, quindi che è un palloncino, che ci permette di creare una maggiore distanza tra la prostata e il retto, come si può vedere nelle immagini. Questo quindi ci permette di erogare stessa dose, se non dosi superiori, sulla prostata, cercando di risparmiare maggiormente il retto. Ma è vero che vediamo nell'immagine successiva, credo che io ho messo un esempio, sì, questo è un paziente che noi abbiamo trattato, nelle immagini... Il tumore prostatico è maligno in questo caso? Sì, certamente sì. Solo maligno. Solo maligno. Solo maligno. Nelle due immagini inferiori vediamo come il retto che è identificato in marrone, credo, mentre la prostata in verde siano a stretto contatto. Nelle immagini superiori, invece, lo stesso paziente che ha messo uno spacer, che credo che sia identificato in rosso, io adesso non riesco a vedere... Noi la scritta in giallo, comunque. La scritta in giallo, spacer, e la scritta sopra prostata in rosso. Sì, e quindi nelle due immagini superiori si vede come si è creata una distanza tra i due organi. e questo ci facilita, notovamente, il compito, appunto, per creare questa distanza e quindi per poter erogare le stesse dosi con un notevole risparmio sul... Nelle immagini di destra, a destra, per beneficio dei nostri telespettatori che stanno guardando lo schermo, la scritta in giallo è vescica e ci fa vedere proprio il posizionale. Anche in questo caso una seduta potrebbe bastare? No, veramente, qui l'obiettivo è arrivare a cinque sedute. Cinque sedute. Noi ancora non ci arriviamo, però anche in questo caso confidiamo di arrivarci a breve. Allora, abbiamo visto piccoli tumori polmonari, piccoli tumori cerebrali, piccoli tumori prostatici, altri campi d'azione quali potrebbero essere? Teoricamente i campi di applicazione sono infiniti. Certo, il criterio dimensionale credo che sia quello che guidi maggiormente. Ripeto, io ho fatto un esempio e noi l'abbiamo radiato anche di un linfonodo, un linfonodo che può essere pelvico, addominale, quindi insomma noi vediamo dei campi di applicazioni notevoli. La radioterapia stereotassica ha effetti particolari, collaterali, sul paziente, Dottor Duro? Gli effetti, parossalmente, sono fortemente dipendenti dalla zona che noi andiamo a radiare, quindi dipendono dalla sede che noi andiamo a radiare. Certo che se da un lato noi è vero che eroghiamo dosi molto più alti però siamo molto più precisi e quindi cerchiamo meno lesioni al tessuto circostante. Effetti collaterali sul paziente? Se ci sono. Beh, sono quelli classici anche della convenzionale che sono dipendenti comunque dalla zona che noi andiamo a radiare. Senta, viste le dimensioni minime dei tumori trattati visto anche che si chiama radiochirurgia potrebbe diventare un giorno sostitutivo della chirurgia tradizionale. Gli studi che sono stati effettuati sui piccoli tumori polmonari gli studi iniziali descrivono un quadro di stessi tipi di risultati e quindi questo ci lascia ben sperare. Logicamente adesso viene sempre in seconda battuta la stereotassi a livello polmonare di lesioni polmonari però è presumibile che un domani si possa al momento è una valida alternativa. È una valida alternativa per il momento però un domani potrebbe diventare sostitutiva può essere abbinata anche alla chemio durante una fase di trattamento può essere abbinata alla chirurgia? Anche questa è una domanda molto frequente generalmente per i dosaggi che noi raggiungiamo con la stereotassi è preferibile laddove indicata una chemioterapia fare uno schema sequenziale quindi fare radioterapia e successivamente chemioterapia o in alternativa. Prima o dopo un eventuale intervento chirurgico? Ma come si embrica con la chirurgia non è un discorso che si può fare e si può applicare su tutto quindi bisogna valutare caso per caso. Senta siamo alle considerazioni finali intanto che risultati avete ottenuto in questi anni da quando l'Asla ha acquistato questo acceleratore lineare bomba come l'ha definito lei che risultati avete ottenuto sui pazienti trattati? Sì noi siamo stati inizialmente molto prudenti appunto perché non avevamo grossa dimestichezza con la macchina e con la tecnica sinceramente abbiamo preso coraggio perché con il tempo perché i risultati sono stati veramente eccezionali io mi riferisco sia alle lesioni cerebrali che alle lesioni pulmonarie tanto stiamo vedendo la sua echipe qui e questi siamo noi siamo tutti giovani siamo tutti giovani se lei è il più anziano sono ragazzini siamo tutti giovani io ho un rapporto speciale con loro perché avere la responsabilità di essere dotati di questi macchinari ci impone comunque una formazione continua e quindi stare sempre sul pezzo e continuare a studiare continuamente queste nuove metodiche e di questo io e per questo io sono grato a loro perché sono eccezionali sotto questo punto di vista e quindi come vi integrate radioterapia e fisica sanitaria? devo ringraziare anche il reparto la VOC di fisica sanitaria a Teramo perché c'è una fattiva collaborazione c'è un rapporto splendido che ruolo svolgono con voi? loro sono io spesso li definisco come gli anestesisti per i chirurghi senza di loro noi non potremmo fare niente perché sono loro che ci forniscono i piani di trattamento mi piace questa definizione e quindi questo noi è indispensabile per noi il loro lavoro e che ruolo svolgono loro come loro fanno i controlli di qualità sulla macchina che sono fondamentali per avere la dimostrazione che la dose che noi eroghiamo dopo sia quella che effettivamente interviamo quella che noi vogliamo dare e dopo producono i piani di trattamento che sono i piani che dopo noi andiamo a trattare sul paziente certo torniamo ai risultati ottenuti in questi paio d'anni questo paio d'anni per l'esattezza credo che sia poco più di un anno perché noi l'abbiamo iniziato a fare sul secondo macchinario acquisito a fine 2017 quindi dopo qualche mese di pratica abbiamo iniziato in modo abbastanza moderato quindi non con dosaggi molto spigli abbiamo iniziato a ipofrazionare cosa significa a ridurre il numero di frazioni e aumentare il numero di dose per frazione fino ad arrivare agli ultimi giorni agli ultimi mesi in cui stiamo facendo una serotassi pura quindi risultati buoni avete avuto i casi più difficili sono quelli delle recidive dottor Duco sono quelli delle recidive perché sono scarsamente vascularizzati perché sono già trattati spesso troviamo pazienti già trattati con chemioterapia sono poco ossigenati quindi insomma con il paziente che spesso non hanno già la stessa complianza di inizio trattamento quindi insomma sono quelli un po' più difficili anche come gestione per essere precisi nel colpire il bersaglio vi allenate a un poligono di tiro sì spesso nelle diapositive viene usato questa immagine perché è così perché è reale il futuro cosa vi aspetta nell'immediato ma nell'immediato noi adesso siete un reparto giovane quindi avete da pedalare abbiamo iniziato a trattare lezioni come gli adinomi ipofisari che sono le lezioni benigne e inoltre vogliamo sempre più proiettarci verso una radiochirurgia quindi verso la singola frazione laddove indicata e laddove è possibile effettuarla e magari la inviteremo ancora così faremo il punto della situazione sui nuovi risultati molto volentieri molto volentieri grazie grazie per essere stato con noi grazie a lei per aver accettato il nostro invito il dottor Carlo Dugo direttore dell'unità operativa complessa di radioterapia ospedale Mazzini di Teramo naturalmente ASL di Teramo con lui abbiamo parlato di radioterapia stereotassica e come abbiamo definito in titolo è davvero un'arma in più per i piccoli tumori grazie buon lavoro al dottor Dugo grazie a Francesco Specchiulli in regia Andrea Di Fabio in post produzione grazie a voi teri spettatori per aver seguito anche questa puntata di Medicina Facile ci vediamo la prossima settimana naturalmente tratteremo un altro argomento grazie e arrivederci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti